Nel video di oggi, affronteremo le scottanti rivelazioni di Giulia Stabile riguardanti la sua ex collega Belen Rodriguez. Prima di procedere con il video, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime notizie. Giulia Stabile e Belen Rodriguez hanno condiviso il palco nel programma, Tu si vales, lavorando insieme per un'intera stagione. Inizialmente, Giulia, vincitrice di Amici, si è unita al team di Tu si vales su richiesta di Maria De Filippi, affiancando Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sacara dopo che l'Argentina ha lasciato lo show. Giulia ha preso il posto di Belen come conduttrice. Durante la loro collaborazione, Giulia ha manifestato più volte il suo apprezzamento per Belen. Un aspetto che ha colpito i fan è stato il commento di Giulia sull'istinto materno di Belen, dichiarando, Belen ha detto che vuole adottarmi. A parte gli scherzi, lei è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono. Queste parole riflettono un rapporto di stima e affetto tra le due, con Belen che mostra un atteggiamento protettivo nei confronti di Giulia. Sebbene non sia chiaro se Giulia e Belen mantengano ancora un rapporto di amicizia dopo la fine della loro collaborazione in Tusi Valles, le dichiarazioni passate di Giulia lasciano intendere che l'amicizia tra le due potrebbe essere ancora attiva. La transizione di Giulia da ballerina a conduttrice è stata un passo significativo nella sua carriera, segnando un'evoluzione professionale. La storia di Giulia e Belen ha, Tusi Valles, è un esempio di come le relazioni professionali possano evolversi in amicizie e di come i ruoli in un programma televisivo possano cambiare nel tempo. Cosa ne pensi di Giulia Stabile? Facci sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video sulle ultime notizie.